Ciao, io sono Marina, sono di Aosta e volevo testimoniare il fatto che questa serata è stata veramente molto utile per me. Sono arrivata che ero sfinita, scavica e adesso sono tornata alla Marina di sempre. Ringrazio Patrizia perché è riuscita come sempre a dare il meglio di sé qui ad Aosta. Un bacio. Grazie.